Facevano lavorare e vivere in condizioni disumane cittadini bulgari non vaccinati contro il Covid. Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Atessa su disposizione del GIP del Tribunale di Lanciano. Si tratta di un cittadino bulgaro detenuto nel carcere di Vasto e di un imprenditore agricolo di Mozzagrogna agli arresti domiciliari. Approfittando dello stato di bisogno e della situazione di vulnerabilità di 11 persone, tra le quali diverse donne provenienti da un piccolo paese che si trova a nord della Bulgaria, al confine con la Romania, le facevano lavorare e vivere in condizioni disumane con paghe da fame. I bulgari giungevano in Italia via mare dalla Grecia fino a Brindisi o a Bari e poi proseguivano in autobus fino a San Severo dove venivano prelevati dal loro collazionale che li trasportava fino a Fosacesia. Nella località rivierasca della provincia di Chieti venivano ospitate fino a 11 persone, tutte sprovviste di vaccinazione anti-Covid-19 in un locale di proprietà dell'imprenditore agricolo fatiscente e con gravi carenze igienico-sanitarie.